E buonasera amici sportivi di Euro Bruno 2021. Ben ritrovati qui signore e signori al vero appuntamento con il vero calcio. Oggi vi procureremo una partita al tocco. Pronti? Il primo attacco. Paolo Tizzul. Ciao a tutti amici sportivi. Ciao, ciao. Poi abbiamo come centrocampista la signora Marietta. Buonasera, buonasera. Come portiere abbiamo il nostro Bruno Tizzul. Ciao a tutti, ciao, ciao. Una bella formazione d'attacco, molto bella, molto fatta bene. Andiamo con i nostri sfidanti che abbiamo in attacco. Il signor attaccante Angelo Lilla. Ciao, bella gioia. Ciao. Andiamo a fare tanti gol. Ciao. Centrocampista. La nostra signora Aspida. Ciao a tutti quanti, però io non voglio correre. Lo ammetto e non c'ho voglia. Ciao, ciao. Poi come portiere abbiamo la nostra buonissima Daniela Lilla. Sì, ciao, ciao, ciao. E subito dopo questa presentazione un paio di minuti di sigla di iniziale e poi via con la partita. Sì, ciao, ciao. Ed eccoci tornati qui sulla partita di calcio. Siamo pronti per iniziare la partita. Spieghiamo in due secondi le regole. Vale tutto. Praticamente non c'è fuori gioco. Non ci sono falli. Appena si fa gol si parte immediatamente da dove è finita la palla. E sotto queste regole via con il vero calcio. Vedo i giocatori tra un attimo che dovrebbero entrare in campo. E' colpa noi, siamo pronti. Paolo, passa subito la palla di Marietta. Ripassa il signor Paolo che è bellissimo. Uno, due. Vai, io, corro. Bellissimo tiro da parte della signora Marietta che palla a tira. Ha un mega tiro ma... Aspetta, aspetta. Benissimo. Guarda, c'è il contratto. Guardami. Signori, per favore, prendete la palla. Aspetta che ve la ritiro. Uno, paolo, paolo. Un attimo, un attimo. Mi fai del pallone. Sì, Paolo. Che poi Marietta, attenzione, tira. Buonissimo, Paolo. Signora Marietta, ora si parte. Dania, passa l'aspida. Che poi passa subito il signor Angelo. Ripassa di nuovo Daniella. Bellissimo. Uno, due. Intensa, perfetta. Attenzione, signor Angelo. Bruno non riesce a parlare la decolla. Bacola, risposta. Attenzione, ora si riprende. Bruno, prende palla. Tira. Signor Paolo. Che poi passa Maria... No, attenzione. La tiene ancora. Bellissimo passeggio di testa. Signora Marietta, tira. Ma Daniela, para. Stavolta non fa entrare palla. Attenzione, la palla vaga da sola. Signor Angelo. Prende pallone. Tira. Attenzione. No, ma stavolta Bruno c'è. Para di petto. E rimbalza subito la palla. Che va a vola. Verso centro campo. Che intercetta di testa. La signora Aspida. Che poi... Prende palla. Attenzione. La signora Marietta. Bellissimo. Uno. Fine primo tempo. Signori. Fine primo tempo. Bellissima partita fino adesso. Bella partita. Complimenti. Mi è piaciuto molto. Tra poco inizia il secondo tempo. Bene, tornate al secondo tempo. Con il nostro arbitro Acquolina. Pronti? Siamo pronti? Dai, dai. Rimontiamo adesso. Tieni il pallone. Ti do il pallone dai. Intercettata parola da Marietta. Corri, corri Maria. Corri te. Prende il gioco. Attenzione. Tira la palla. Daniela, croce. Prende. Tieni la parata. Tieni la parata. Tieni la parata. Tieni la parata. Cosa vuole fare Marietta? L'intercettata. Bellissima. Intercettazione a voi. Ma Daniela c'è. Aspettate la riparsa. Obama. Inrovesciata. Attenzione. Benissimo. Inrovesciata. Se questo entra. Attenzione. Ticcola. Bellissima. Ticcola. Grandissima rimonta. L'ora della squadra di Izzul. Daniela attende subito a rimbalzare il pomone verso il signor Anzio. Che tiene palla. In seguito però da Paolo. Che scende in scivolata. Ma non c'è niente da fare. Cosa sta facendo il signor Paolo? Fa avanti e dietro come una freccia. Impazzita. Signora Marietta si è fermata verso il portiere Bruno. Ma ora ricompare d'altra parte. Attenzione. Aspida. Tiene Paolo. Tira una vera bomba. Attenzione. Bruno. Riuscire a parare? Attenzione. Lo tra tiene no. Scaffa a parare? Vittoria. Attenzione. Questa seconda partita mi sembra ormai finita. Infatti l'altro giocolino finisce. Fischia. Triplo fischio. 2 a 2. Si decide tutto ai rigori. Eccoci Armi. Caccia di rigore. Attenzione. Signor Paolo. Prima a battere. Fermo. E deciso. Attenzione. Tira. Niente da fare. Daniela. Superata. Primo gol. 1 a 0. Angelolina. Tira. Attenzione. Bruno. Para. Bellissima parata di Bruno. Signora Marietta contro Daniela. Attenzione. Ecco qui. Bellissimo. Calla. Signora Aspida. Pronta. Tira. Bruno. In ritardo. Ma fuori. Attenzione. Fuori. Bellissimo. Bruno. Caccio. Quasi decisivo. Attenzione. Niente da fare. Daniela. Scarsa. Ancora gole. 3 gol. Attenzione. Caccio di decisione. Daniela. Tira. Fuori. Attenzione. Bruno. Qua è. Vincono. Vincono. La partita. Bellissima. Bellissima. La vittoria. Meritatissima. Dalla squadra di FU. Gli europei. 2021. E noi. Ce lo vediamo. La prossima. Volta. La prossima settimana. Con altri divertentissimi video. Grazie a tutti quanti amici di YouTube. Buona Lockrabas. No. 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 Grazie a tutti.